In pochi giorni avevano messo a segno quattro rapini ai danni di farmacie ed esercizi commerciali in alcuni comuni della provincia di Bari, ma sono stati incastrati dalle testimonianze e dalle immagini delle videocamere di sorveglianza. Così, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, i carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle hanno arrestato due trigianesi di 40 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine. Sono in corso indagini per risalire a dei complici. Nel periodo compreso tra i mesi di marzo e maggio 2015, armati di pistola e travisati da passamontagna, i due avevano saccheggiato due farmacie e un esercizio per la vendita di prodotti casalinghi di Casa Massi, ma nonché un supermercato a cella a mare, sottraendo gli incassi per un importo complessivo pari a 5.000 euro in contanti. La particolarità era quella di colpire negli orari di chiusura serale, nonché la circostanza di essersi allontanati a piedi o su un altro di colore grigio. Proprio dall'esame dei filmati di impianti di videosorveglianza e dalle testimonianze delle vittime, gli investigatori sono riusciti a risalire ai rapinatori. Sono tuttora in corso mirate indagini finalizzate a verificare se la banda si sia resa responsabile di altre rapine avvenute in altri esercizi commerciali della zona.